Buongiorno a tutti e grazie della partecipazione, dell'interesse. In queste scarse, due ore scarse, cercherò di impostare il discorso. Cioè, come dire, vorrei proprio comunicare cosa consiste veramente l'attualità, la grandezza, l'importanza di questa nostra Costituzione italiana. Per farlo devo necessariamente, da una parte, richiamare i precedenti, se ci sono dei precedenti storici. Cioè, capire come la nostra Costituzione abbia in parte rotto ovviamente con le epoche precedenti, però, e se ci siano modelli a cui si ispiravano, appunto, in cui si ispirarono i nostri padri e madri costituenti. Ma il mio intento sarà quello anche di fare focus, dei focus su alcuni articoli, richiamando quello che fu, appunto, il dibattito acceso, un dibattito acceso in quei quasi due anni di lavoro, tra la 46 e la fine del 47, appunto, dell'Assemblea Costituente. Dall'altra, per capire quanto la nostra Costituzione sia sempre, da allora, dal primo gennaio 48, quando entra in vigore, ad oggi, sia sempre rivolta al futuro. Perché? Perché per onorare, sancire, come dire, rispettare i principi e i diritti e i doveri che troviamo all'interno di quegli articoli, ci è voluto molto tempo e ce ne vorrà ancora, nel senso che non è finito, non è un processo, è un processo in fieri. Il processo della democrazia non è mai una volta per tutte, questo lo dico spesso e anche perché ci sono dati preoccupanti oggi, no? Neonazionalismi, sovranismi, fascismi, autoritarismi, e tutto quello che sappiamo. Quindi la democrazia va difesa sempre e la nostra Carta Costituzionale ce lo permette. E per capire quanto importante è stata negli anni, andiamo a vedere anche, andremo anche a vedere qualche sentenza della Corte Costituzionale, perché è quello l'organo, no? Che è a difesa, no? A tutela della Costituzione. Nel senso che quando può accadere, è accaduto e accadrà, una maggioranza governativa fa una legge incostituzionale e lo può decidere solo l'organo preposto, cioè la Corte Costituzionale. e annullando quella legge, questa è anche una legge, sì, una legge appunto governativa, parlamentare, e annullandola deve spiegare i motivi. Quindi entrando anche in quel meccanismo proprio, no? Del dispositivo, possiamo capire meglio quanto difende tutti noi, quanto tutela tutti noi la Costituzione italiana. Questo del resto ce lo permette questa nostra Costituzione della Repubblica Italiana, lettura guidata dalla Carta Costituzionale, che la Fondazione Franceschi, l'Istituto Lombardo, hanno voluto, ormai da diversi anni, siamo arrivati alla terza edizione, grazie appunto al lavoro di Alessandro Basilico, e noi abbiamo per ogni articolo anche dei richiami alle sentenze della Corte Costituzionale. Io ho voluto proprio utilizzarlo, questo nostro libretto, questa nostra Costituzione, che è speciale, peculiare, ecco, non è che ce ne siano altre. Questa accompagna, come dire, il ragazzo, lo studente, la studentessa, a capire meglio il portato, le conseguenze, ecco. Però dobbiamo partire sempre da un punto di vista storico, no? Allora, io in questo incontro ho fatto un breve abstract, no? In cui ho scritto, ma perché la nostra Costituzione è plurale e solidale? Perché i padri e i madri costituenti hanno voluto riconoscere il primato storico e logico della persona umana rispetto allo Stato? Perché hanno parlato non solo di diritti, ma anche di doveri inderogabili? E perché ricorre tanto spesso e con forza la parola Repubblica in luogo di Stato, Nazione? Cioè la peculiarità della parola Repubblica. Dobbiamo entrare nelle parole, le parole vogliono dire tanto nella Costituzione. Dovete pensare che la Costituzione è stato un'amalgama, no? È il frutto di un'amalgama di tre, almeno tre grandi famiglie, ideologie, chiamiamole proprio ideologie politiche, no? Quella liberale, quella socialista e comunista e quella democristiana, cattolica. Ed è stato arduo, difficilissimo, in assemblea, sia in commissione che in assemblea, ogni volta trovare il punto di convergenza sulle singole parole. Veramente hanno lavorato in modo incredibile, incredibilmente poi fecondo, perché ogni volta si scontravano, e il dibattito è interessantissimo da leggere, no? Ci sono scontri, giustamente, di posizioni diverse, ma alla fine trovavano la parola giusta, l'espressione giusta. E allora bisogna, insomma, andare dentro ogni articolo. E io adesso ho preparato un PowerPoint che spero aiuti un pochino, anche perché poi lo metto a disposizione, così per approfondimenti. Io poi sono sempre a disposizione comunque anche con la mia mail, la mail dell'Istituto Lombardo, quindi potrete scrivere. Perché mi rendo conto che dirò molte cose e quindi che non potrò approfondire tutto, ovviamente, in meno di due ore. Quindi partiamo dal, non so, io sono andata a rileggere un interessante articolo di Paolo Grossi, no? Paolo Grossi è un ex giudice della Corte Costituzionale. E giustamente pone con forza, poneva insomma qualche tempo fa, no? Con forza il fatto che la nostra sia una Costituzione novecentesca. Allora, la settimana scorsa la collega Deborah Migliucci ha fatto un'ottima, importantissima lezione dallo Statuto d'Albertino alla Costituzione italiana, quindi ha fatto capire tutti i passaggi. Ora erano altre classi, però, come diceva Luca, voi potete andarvela a risentire e sarebbe molto utile, perché, come dire, la prima parte. Oggi io invece entro nel merito della nostra Costituzione italiana, appunto, del 48. Però Deborah Migliucci faceva presente da dove era partito il pensiero costituzionale, cioè dalla Costituzione americana, poi francese, c'è il costituzionalismo ottocentesco e poi si arriva al ventesimo secolo. E c'è una netta, una netta, come dire, discontinuità. In che senso? La nostra, quindi, è una Costituzione novecentesca. Intanto apro il... ecco, vi faccio... aspettate. Comincio a condividere lo schermo in modo che possiate cominciare a vedere. Ecco, si vede, vero, la Costituzione italiana? Sì. Ok. Sì, si vede. Ok, benissimo. Io metto in alto, invece, il riquadro, che così non dà fastidio. La nostra è una Costituzione, quindi, abbiamo detto, novecentesca. Novecentesca si differenzia rispetto, ovviamente, a quelle, appunto, a quelle sette, ottocentesche. Perché? Perché c'è, proprio perché indicato, espressamente, sono indicati e sono prevalenti, quasi, hanno una forza, i diritti, oltre ai diritti civili, anche quelli sociali. Sociali e quindi anche economici. Quindi, in Italia, nel 48, questa neonata Carta Costituzionale è in perfetta coerenza col pluralismo sociale, no? Finalmente ritrovato. Come dire, rappresenta l'affermazione di un pieno pluralismo anche a livello giuridico. E quali sono... ci sono dei modelli precedenti? Quindi, abbiamo detto, non può essere solo il modello della Costituzione francese, la Carta, no? La Declarazione francese, la Declarazione dei Principi. Non può essere, ovviamente, lo Statuto. Lo Statuto, dovete pensare che parlava di regnicoli, no? I regnicoli erano i sudditi, di fatto, no? Del Regno. E aveva solo, se non sbaglio, sette, otto articoli sui diritti civili, diritti di libertà, classici. Dopodiché tutto il resto dello Statuto Albertino era uno statuto concesso dal sovrano. Prevedeva, invece, tutte le varie articoli sulla casa regnante. Noi, invece, abbiamo una Costituzione di 139 articoli, in cui tutta la prima parte, fino all'articolo 54, riguarda proprio i diritti e i doveri dei cittadini e di tutta, insomma, gli italiani. E non solo, perché in alcuni casi si parla di uomini, in altri di cittadini. Anche lì bisogna fare la giusta distinzione. Quindi, l'unico precedente è la Costituzione di Weimar, no? Nel 19, in Germania. La Costituzione di Weimar ha un impianto già di questo tipo. La Costituzione della Repubblica Romana. Vedete, la Costituzione della Repubblica Romana era nel 1849, è efimera, lo sapete, non entrerà mai in vigore, viene sconfitta la Repubblica Romana di Mazzini. Però quei principi fondamentali rimangono, rimangono il prodotto, voglio dire, di quel fenomeno appunto del processo risorgimentale. Sono ben presenti nella mente di molti nostri costituenti. Per la prima volta si parla di sovranità per diritto eterno nel popolo, la sovranità nel popolo, risiede nel popolo. Si parla di uguaglianza, libertà, fraternità. Questo ovviamente richiama i francesi, richiama la dichiarazione, ma soprattutto dice che la Repubblica promuove il miglioramento delle condizioni morale e materiali di tutti i cittadini. Quindi è già una Costituzione che vorrebbe, quella della Repubblica Romana, avrebbe voluto attuare dei principi, non solo dei principi, ma dell'esercizio dei diritti. Se andiamo a vedere, come vi dicevo, quella di Weimar, ecco, qui siamo nel 1919, siamo in pieno ventesimo secolo, e la Repubblica di Weimar dice, il Reich tedesco è una Repubblica, il potere statale emana dal popolo. Emana, risiede, appartiene, era stato una, per esempio, dei verbi, alcuni dei verbi su cui si erano anche un po' divisi i nostri costituenti. Alla fine prevarrà, lo sapete, appartiene al popolo. Ma insomma, si era parlato anche di emana o di risiede. Quello che è importante è che il potere statale sta per sovranità, evidentemente, in questo caso, il potere statale emana dal popolo. E la Repubblica di Weimar, la carta di Weimar, ha diverse, nella seconda, è invertita. Tutta la prima parte riguarda l'istituzione, le istituzioni, la composizione, diciamo, del Parlamento, del Reichstag, del Reichstrat. Ma nella seconda parte, invece, ci sono i diritti e i doveri, e abbiamo appunto, uomini e donne hanno di regola gli stessi diritti e doveri civici, la vita collettiva. Non si era mai parlato prima di vita collettiva, di diritti collettivi, diritti sociali, per l'appunto. Maternità, entra la maternità nella Costituzione di Weimar, che ha diritto alla protezione e all'assistenza dello Stato. Poi ci sono appunto tutta la parte, ecco, l'educazione e l'istruzione, il capo quarto, l'arte, la scienza e i loro rispettivi insegnamenti sono liberi, capite? Qui c'è, lo vedete bene, no? La scuola è aperta a tutti nella nostra Costituzione, si rifà appunto all'articolo 142. Quindi dobbiamo anche avere ben presente che qualche precedente c'era, ecco, di Costituzione democratica, ma insomma, per il resto i nostri costituenti dovettero, appunto, guardavano avanti, ecco, erano tutti, o quasi tutti, a parte i più conservatori, diciamo quell'ala liberale conservatrice, erano tutti invece rivolti al futuro, cioè non doveva essere un'Italia che tornava al periodo prefascista, doveva essere un'Italia che guardava avanti. E quindi, adesso lasciamo stare appunto i precedenti e andiamo a vedere, e andiamo appunto a vedere la nostra, la nostra appunto Costituzione nel, nel merito. Allora, nel merito appunto abbiamo l'Assemblea Costituente che si, viene votata il 2 giugno, lo sapete bene, del 46 e già nell'estate, 19 luglio, vengono, come dire, viene articolato il lavoro attraverso una commissione cosiddetta dei 75. Ora dovete pensare che gli eletti in Assemblea Costituente erano 556, era impensabile che lavorassero tutti alla Costituzione. Quindi si fece, diciamo, una cabina, oggi si parlerebbe tanto di cabina di regia, più ristretta, questa dei 75, a capo dei quali venne appunto nominato Meuccio Ruini, e poi Dossetti presenta un po' un progetto di regolamento interno che ricalca l'esperienza della Costituente francese. Ecco, l'altra esperienza diretta, vicinissima, era quella, nel tempo, era quella francese, era partita un po' prima, la Costituente francese. E quindi venne deciso di affidare i lavori della redazione, quindi di un testo, una bozza di testo, a tre sottocommissioni, suddivise in questo modo, la prima, diritti e doveri dei cittadini, la seconda, organizzazione costituzionale dello Stato, e la terza, lineamenti economici e sociali. Come vedete, erano affidate, secondo una spartizione, la spartizione è un termine purtroppo che oggi ha una connotazione negativa, ma insomma, come vi ho detto, erano tre le grandi famiglie ideologiche e due, diciamo, tre anzi, i partiti che avevano ottenuto più voti in assoluto, che erano l'ADC, il PC, il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, e il Partito Socialista. Ora, era inevitabile che le tre sottocommissioni fossero affidate ai tre, a tre esponenti di queste, di queste famiglie politiche, diciamo, di questi partiti politici. Quindi, inizia appunto il lavoro, quindi andiamo avanti, ecco, comitato non bastava, diciamo, il 75, quindi erano la prima commissione, la commissione a cui dovevano riferire le sottocommissioni, ma poi per amalgamare, per, come dire, fare un lavoro più di cesello, si era costituito un comitato di redazione, detto anche Comitato dei Diciotto, anche questo preseduto dallo stesso Mevuccio Ruini. Dovete pensare che in questo comitato dei Diciotto c'erano proprio, c'erano gli uomini più importanti, da Togliatti a Dossetti, ora so che sono nomi che a voi non dicono molto, quando parliamo di, per voi, sono già vecchia la Seconda Repubblica, se portiamo sempre di prima, seconda, i primi anni 2000 è già vecchio, figuriamoci. Però, insomma, questi erano i partiti che hanno, veramente, avevano combattuto, erano gli uomini che avevano combattuto la resistenza e quindi antifascismo, no? E la guerra di liberazione. E in questo comitato dei Diciotto, appunto, ci furono i principali esponenti. E avevano un tempo, non un lunghissimo, da settembre iniziano a lavorare le sottocommissioni, tra gennaio e febbraio arriva il progetto in assemblea costituente, come vi ripeto, l'assemblea costituente è costituita da 556 deputati. che avrebbero dovuto, necessariamente, votare uno per uno tutti i singoli articoli della Carta Costituzionale. E il lavoro di cambiamento, di modifiche, avverrà sia in sede di commissioni, sottocommissioni, sia poi in sede di assemblea costituente. Perché l'assemblea costituente aveva la facoltà, diritto, dovere, di discutere e anche di modificare gli articoli della bozza. Quindi uno dei primi problemi fu il preambolo. Si era parlato di un preambolo, diciamo, come nella Costituzione francese. Era meglio inserire in un preambolo tutti quei principi generali, che però sono i diritti al lavoro, ad esempio, uno fra tutti. O i principi, appunto, la sanità, la famiglia. Ecco, principi che non sono norme di concreta portata, dicevano alcuni. Tra questi Calamandrei, anche lo stesso Ruini, erano più per un preambolo di grandi principi. No, gli rispondono invece i principali uomini dei tre grandi partiti, come vi dicevo, Lelio Basso, Togliatti, Dossetti. Perché? Perché quegli articoli devono, anche se sono principi programmatici, è stato detto anche, per un'Italia che verrà, che sarà un'Italia realmente democratica, ci vorranno anche decenni, ma questi principi dovranno, nel corso del tempo e della storia, essere attuati, e quindi devono rimanere nella Costituzione, devono avere pregnanza di articoli costituzionali. Sono diritti che verranno realizzati in futuro. Ora, col senno di poi, sicuramente hanno fatto una scelta. Sicuramente quegli articoli che adesso vedremo inseriti nella Carta Costituzionale e non in un preambolo, hanno maggiore cogenza, sicuramente, ecco. Hanno fatto... ma lo stesso poi Calamandrei lo riconobbe, insomma. Quindi la... ecco, volevo partire però dai diritti. I diritti, quando parliamo di diritti, parliamo innanzitutto di diritti umani. Adesso vediamo quali sono i diritti più importanti, no? Ma non solo nella nostra Carta, perché poi la nostra Carta è servita anche per altre Carte, quella tedesca, quella la stessa dei diritti umani dell'ONU, quella del 10 dicembre del 48, che seguirà quindi di neanche un anno la nostra... Adesso vediamo qui un breve video che mi sembra interessante, proprio sui... quali sono i diritti umani, che noi oggi parleremo di quello. Human rights is, um... I think that's a good question. Human rights, wow, um... I don't even know how to give that definition. Ah, we probably had to do a little bit of homework or something. Any rights, I think any, just as a normal, you know, human, any... The rights that humans have? Oh, that's a very large, few days. I don't know how to give that definition. 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 It's a case, though. We just take the program to there, but we don't even consider what they are. The rights of human rights are the rights that you have, simply because you are human. It's like you expect instinctively and you deserve to be treated as a person, like the rights of living freely, to say what you think, and to be treated like other people. There are many different rights. Si applicano per lo più ad un certo gruppo. Ma i diritti umani sono gli unici che si applicano assolutamente ad ognuno, dovunque. Cioè bambini, anziani, poveri, giocatori di pallacanestro, spazzini, rapper, insegnanti, apicani, indiani, albanesi, cristiani, musulmani, cabalisti, atei, tua mamma, tuo papà, il vicino di casa e tu. Hanno tutti gli stessi diritti umani. In altre parole, sono universali. Ma rimane una domanda. Che cosa sono? Secondo la Nazione Mite, ci sono un totale di 30 diritti umani, che di solito sono raggruppati insieme e chiamati semplicemente diritti umani. Sono tutti elencati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che è il documento sui diritti umani più ampiamente accettato sul soggetto, ci ha voluto un bel po' per averli. Il fatto è che, quando venne firmata, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani non aveva valore di loro. Era facoltativa. E nonostante molti altri documenti, convenzioni, trattati e leggi, non è ancora oggi che poco più di alcune parole su una pagina. Quindi ci si chiede, chi si assicurerà che quelle parole diventino realtà? Quando il Dottor King ha marciato per l'uguaglianza razziale, ha marciato per i diritti che erano stati garantiti dalle Nazioni Unite per quasi due decenni. Eppure ha marciato. Quando Nelson Mandela si è battuto per la giustizia sociale negli anni 90, il suo paese aveva già consentito di abolire tale discriminazione da quasi 40 anni. Eppure si è battuto. Coloro che si battono oggi contro la tortura, la povertà e la discriminazione non sono giganti o supereroi. Sono persone, bambini, madri, padri, insegnanti, individui che pensano liberamente e che si rifiutano di rimanere in silenzio, che si rendono conto che i diritti umani non sono una lezione di storia, non sono parole su una pagina, non sono discorsi, annunci pubblicitari o campagne di relazioni pubbliche. Sono le scelte che facciamo ogni giorno come esseri umani. Sono una responsabilità che tutti condividiamo. di rispettarci a vicenda, di aiutarci a vicenda e di proteggere quelli nel bisogno. Come ha detto Eleanor Roosevelt, dove cominciano dopo tutto i diritti universali umani? In piccole località, vicine a casa. Così vicine e così piccole che non si possono vedere su nessuna mappa del mondo. Eppure sono il mondo della persona stessa. Il vicinato in cui vive, la scuola o l'università che frequenta, la fabbrica, la fattoria o l'ufficio in cui lavora. Sono questi i luoghi in cui ogni uomo, donna e bambino, ricerca uguaglianza di giustizia, di opportunità e di dignità senza discriminazione. A meno che tali diritti abbiano peso in tale contesto, avranno pochissimo peso da qualsiasi altra parte. Ecco, secondo me questo video, è importante, interessante, perché parte anche dal sentire comune, dalla difficoltà che avremmo ciascuno di noi a definire subito diritti umani. Adesso avete scoperto, intanto, che ce ne sono 30 classificati. E comunque, la cosa più importante, secondo me, in questo video è proprio il fatto che, come diceva Eleanor Roosevelt, che adesso vedremo, è stata veramente una importantissima donna e grazie anche alla sua tenacia, ecco, che si è arrivati poi il 10 dicembre del 48 a sancire questa carta così importante. Però quello che è importante capire in questo video è che solo dallo sforzo, dalla collaborazione, dalla cooperazione di tutti noi, di esseri umani, che possono attuarsi i principi e i diritti che sono scritti nella carta, sia dell'ONU e sia nella nostra Costituzione. Ma così l'avevano inteso i nostri padri e madri costituenti. Un lavoro, no, di responsabilità da fare tutti insieme. Quindi, nelle pieghe di ogni articolo, noi troviamo, di tanti articoli, troviamo proprio questo carattere plurale, per questo io ho detto plurale, ho voluto mettere, insomma, l'accento. È plurale e solidale, perché altrimenti, come dire, la stessa libertà, che è uno dei diritti forse più importante, secondo molte persone, giustamente, rimane appunto un diritto, la libertà la si può intendere in vari modi, ecco. Quindi, partiamo appunto, adesso vediamo i vari articoli, poi farò altri, diciamo, altri insert che possono aiutarvi, un po' per alleggerire la parte dottrinaria, diciamo così, e un po' anche per stimolarvi, stimolare in voi qualche, magari, io quello che spero, anche qualche domanda, vi lascerò poi alla fine un po' di tempo, o se arriveranno domande, insomma, via chat. Mi piacerebbe molto, ecco. Il mio intento è quello, di stimolare in voi una discussione, una, come dire, dei dubbi. dubbi o, appunto, opinioni, giudizi. Allora, mi è sembrato anche importante parlare anche di Costituzione, accennare almeno la Costituzione cosiddetta materiale, no? Questo è un termine che appunto acquisì grande fortuna a partire dalla teorizzazione che ne fece Mortati. Costantino Mortati è stato uno dei, insomma, costituzionalisti, allora, appunto, in Assemblea Costituente e all'interno delle sottocommissioni, molto importante. Era un giurista giovane, ma che aveva, insomma, ben chiaro, no? Vesso dove doveva, come avrebbe dovuto poi svilupparsi, ecco, nella nuova Repubblica Democratica, come avrebbero dovuto poi svilupparsi i diritti. E quando parliamo di Costituzione formale, no? Facciamo riferimento all'insieme delle norme e dei principi contenuti nella nostra Carta. È il documento scritto. Nel nostro caso sono 139 articoli. Quella materiale si tratta dell'applicazione e da parte delle forze politiche dei principi enunciati nella Carta. Cioè, i nostri costituenti sapevano bene che dal momento in cui sarebbe entrata poi, no? In vigore la Carta Costituzionale poi ci sarebbero stati maggioranze diverse, maggioranze più conservatrici, maggioranze più progressiste e che ciascuna maggioranza, andata al governo, avrebbe poi fatto delle leggi, capite? Ci avrebbe, come dire, piegato in qualche modo, no? La Carta secondo la propria ideologia. Quindi, io faccio un esempio, no? L'articolo 1, si apre con la seguente espressione in Italia, una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Sappiamo, fin dall'inizio era stato detto, ma come? Sì, è certo che per noi è importantissimo, così come l'articolo 4, il diritto al lavoro. Ma il diritto al lavoro dovremmo essere in grado di non avere più disoccupati per onorare un articolo del genere, no? Sarà difficile realizzarlo. Allora c'erano un milione di disoccupati, ma anche oggi non siamo messi meglio, ecco. Però, diciamo che questi articoli che appunto indicano il principio laborista del lavoro come fondamento, del lavoro come diritto, ecco che negli anni 70 era, no? Come dire, negli anni 70 c'era una ideologia un po' molto diversa da quella che poi ha preso piede a partire dagli anni 80. Quindi ci furono leggi molto più attente, molto più attente a diciamo alla collettività, al mondo operaio, pensiamo solamente all'importantissimo Statuto dei Lavoratori del 69. La tutela della proprietà veniva, si intesa, ma in maniera più restrittiva di oggi. anche perché anche sulla proprietà c'è il fine sociale, c'è l'utilità generale negli articoli. Risentiva del clima del tempo, così come la Costituzione risentirà del clima del tempo negli anni invece successivi, decenni successivi. Ci saranno periodi di politiche più interventiste, no? Più interventiste, politiche pubbliche, promozioni di diritti sociali. Pensate, gli anni 70 furono un periodo, un decennio incredibilmente fecondo. Fu rivisto il diritto di famiglia del 75 finalmente, no? Che diede piena parità finalmente anche alla donna all'interno della famiglia. Ci furono le leggi sull'aborto, sul divorzio, gli ospedali psichiatrici. Insomma, c'era un orientamento. Poi l'orientamento cambia negli anni, no? Ecco, allora bisogna stare attenti. La Costituzione è formale e materiale. ma allora, ma beh, qui ho fatto uno schema ma andrei avanti, tanto lo conoscete più o meno, lo schema prevede i primi dodici articoli detti fondamentali ma non è che gli altri non siano altrettanto importanti. Comunque, la cosa importante è che sono due parti, no? Sapete bene, fino al 54esimo articolo sono quelli che vedremo oggi. Io mi soffermerò sugli articoli proprio relativi ai diritti e ai doveri dei cittadini. Faccio sempre pongo sempre l'attenzione quando spiego la Costituzione ai ragazzi i doveri, diritti e doveri. I doveri erano ben presenti in quella Costituzione della Repubblica Romana del 4849 perché lì c'è la Mazzini e le Mazzini che si richiamano ogni volta che si dice diritti e doveri. Bisogna appunto tener conto che sono i doveri dei cittadini e i doveri della Repubblica che è l'insieme qua alla fine della... Allora, per capire, la nostra è una Costituzione antifascista e se ne parla spesso la Costituzione è nata, nasce dalla resistenza, bisogna sempre ribadire questa cosa, questo aspetto importante, quindi è una Costituzione antifascista. All'interno dell'Assemblea Costituente non tutti avevano questa idea, nel senso che a parte più a destra, diciamo, tra i liberali più conservatori, c'erano stati, per esempio, delle voci come quella dell'onorevole Lucifero che aveva detto ma la nostra, quella che stiamo scrivendo è una Costituzione e possiamo definirla afascista e no, gli risponde Moro, Moro è questo discorso del 13 marzo 47 in Assemblea Costituente Aldo Moro appunto democristiano e molti di voi ovviamente sanno che poi sarà la sorte terribile nel 1978 quindi 30 anni dopo qualità di segretario della democrazia cristiana verrà rapito dalle BR e ucciso e però Aldo Moro invece è molto importante ha una figura molto importante all'interno dell'Assemblea Costituente allora risponde proprio all'onorevole Lucifero dice non possiamo fare una Costituzione afascista cioè non possiamo prescindere da quello che è stato nel nostro paese un movimento storico di importanza grandissima il quale nella sua negatività ha travolto per anni le coscienze e le istituzioni sta parlando del fascismo del regime mussoliniano durato vent'anni non possiamo dimenticarlo perché quindi questa Costituzione oggi emerge da quella resistenza da quella lotta da quella negazione cioè da quella lotta è stata contro contro quel fascismo che per vent'anni aveva negato tutti i diritti e quindi e per le quali ci siamo trovati insieme sul fronte della resistenza cioè voi sapete che la lotta di liberazione è stata compiuta insieme da cattolici socialisti comunisti azionisti liberali liberali anche conservatori comunque tutti hanno partecipato in maniera armata in maniera civile in maniera non armata comunque c'è stata una un intento una comunità di intenti contro il nazifascismo ora adesso si ritrovano lì in assemblea costituente e quindi vogliono affermarli questi valori e sono antifascisti innanzitutto sono i valori della dignità umana e della vita sociale per questo è un partito vedete a parlarvi di dignità e di diritti umani diritti umani sono innanzitutto la dignità umana e la vita sociale quindi non si può prescindere dice Moro da questa comune costante rivendicazione di libertà e di giustizia quindi io dentro adesso le pieghe della Costituzione vi vi parlerò appunto di questa di queste delle parole delle espressioni e dei principi voluti proprio da Moro e dagli altri da Togliatti da Nenni quindi proprio a basse della nostra Costituzione e Moro in questo discorso io vi direi anche se avete tempo se avete voglia andatevelo a rileggere integralmente comunque questi tre pilastri dice Moro sui quali mi pare che posi il nuovo Stato italiano sono la democrazia in senso politico in senso sociale e in senso che potremmo chiamare largamente umano attenzione qui c'è tutta una una piattaforma no importantissima e su questo convergevano sicuramente tanto i democristiani quanto i comunisti i socialisti gli azionisti e quindi è una democrazia in senso sociale e largamente umano e io direi la dignità no a partire da questo termine è un termine che ritorna ricorrente in più articoli anche un altro esercizio che potreste fare molto interessante è l'occorrenza no delle parole all'interno della carta è facile insomma no digitate è un motore di ricerca all'interno della costituzione quante volte ricorre la parola dignità quante volte ricorre la parola repubblica e allora passiamo qui c'è Togliatti ho voluto richiamare un altro ovviamente esponente questa volta del partito comunista segretario del partito comunista Togliatti sottolineava con forza la confluenza in atto di due grandi correnti quella social comunista e quella cattolica che in nome della dignità della persona umana si riconoscono nella nuova concezione del mondo economico non individualistica né atomistica ma fondata sul principio della solidarietà e del prevalere delle forze del lavoro e nei nuovi limiti da porre il diritto di proprietà qui c'è un'altra importantissima quindi sottolineatura attenzione dignità della persona umana per affermarla con forza questa dignità della persona umana non si può non rivedere non come dire non rivedere non aprire a un nuova concezione del mondo economico allora dignità troviamo nell'articolo 3 tutti i cittadini hanno pare dignità sociale vedete ritorna dignità spesso associato con la parola con l'aggettivo sociale dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge senza distinzioni di lo sapete a memoria spero l'articolo 3 spero lo sappiate a memoria nell'articolo 36 il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa e oggi stride oggi ieri ma oggi forse si è aperta si è aumentata questa forbice tra i ricchi sempre più ricchi e il ceto medio che si va impoverendo e stipendi che spesso non permettono l'esistenza libera e dignitosa allora voi potreste dirmi vedi professore ma lì c'è l'articolo 36 però poi c'è la realtà ecco però c'è l'articolo 36 cioè comunque il nome dell'articolo 36 no quindi è come dire come se come vi ho detto fin dall'inizio questa è una posizione che guarda sempre al futuro quindi per l'attuazione di questi principi le forze politiche sono chiamate a a fare leggi no a intervenire e e nell'articolo 41 l'iniziativa economica privata è libera quello è un caposaldo no della delle costituzioni ottocentesche l'economia l'iniziativa economica i diritti di proprietà però i nostri costituenti hanno aggiunto non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza alla libertà alla dignità umana pensate che qualche anno fa questo è per quando parliamo di posizione formale e poi sostanziale e e materiale qualche anno fa hanno tentato delle forze politiche diciamo più orientate a destra di togliere si era iniziato un dibattito diciamo no per eliminare il l'espressione utilità sociale dall'articolo 41 che qui si parla in questi articoli relativi all'economia 41 42 43 ricorre no la funzione sociale l'utilità l'utilità sociale i fini sociali lo volevano eliminare in nome di questo liberismo neoliberismo sapete che è un po' la cifra insomma da un quarantennio questa parte l'età neoliberista e lì è rimasto però non ce l'hanno fatta ecco a mio avviso è un bene poi ognuno può pensarla come vuole però però questo è per farvi capire com'era importante no sì sancire la libertà ovviamente economica privata ma attenzione ribadire invece anzi affermare perché la prima volta viene affermata in una carta costituzionale l'utilità sociale della stessa economia e nell'articolo 48 anche lì troviamo qui lo troviamo in senso negativo dalla dignità passiamo all'indegnità cioè il diritto di voto non può essere limitato se non nei casi di indegnità morale indicati dalla legge ecco la dichiarazione la dichiarazione appunto dei diritti il preambolo considerato che il riconoscimento vedete la dignità questo è la dichiarazione di diritti umani è quella appunto del 10 dicembre del 48 volevo farvi solamente notare accenno e basta ma a questa carta che è importantissima la carta dell'ONU che anche loro hanno sì un preambolo preambolo è considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà della giustizia e della pace nel mondo quindi e alla base di questi diritti c'è il riconoscimento della dignità e l'articolo 1 tutti gli esseri umani nascono liberi uguali in dignità e diritti e l'articolo 2 ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà annunciate la presente senza distinzione di razza di colore di sesso di lingua di religione di opinione politica di altro genere e qui proprio quasi ricopiata dal nostro articolo 3 ecco volevo appunto adesso farvi notare come ricorra un altro termine che ricorre è quello di repubblica cioè quando noi parliamo di diritti e parliamo anche di doveri bisogna appunto intendere chi garantisce chi tutela questi diritti e chi impone il rispetto anche e l'assolvimento dei doveri allora la scelta del comitato dei 18 torniamo a quello dei 18 di utilizzare il termine Italia il luogo di stato italiano intanto un primo articolo l'Italia è una repubblica democratica e l'aveva spiegato Mortati rifletteva questo il proposito di dichiarare l'identità etnica e l'unità spirituale della nazione in nome della quale ebbe ad effettuarsi il processo di unificazione il termine Italia era l'insieme degli italiani insesi come come un'identità lo stato italiano richiama più all'ordinamento quindi si sceglie Italia e così mentre si intese riservare il termine stato alla disegnazione di quella sola parte dell'ordinamento complessivo lo stato lo ritroveremo molto nella seconda parte della costituzione cioè l'apparato centrale le diramazioni periferiche via dicendo no gli enti locali ecco quello lo stato come apparato come ordinamento istituzionale invece si utilizzò il termine repubblica adesso lo vediamo quante volte per indicare la totalità dell'assetto istituzionale comprensivo oltre che dello stato governo stato persona anche dello stato comunità quindi la repubblica è l'insieme dei cittadini delle istituzioni centrali periferiche e dei cittadini tutti quindi lo stato trattino comunità e analoga edizione sarà utilizzata anche nella costituzione francese no Francia è una repubblica indivisibile anche quella federale tedesca del 49 vedete poi seguirà di qualche anno quella italiana e l'identificazione dell'Italia con la repubblica era tesa ad affermare il momento unitario che raccoglie in sé le molteplici articolazioni di cui l'ordinamento si compone sancendone l'indivisibilità come affermato nell'articolo 5 il quinto articolo l'indivisibilità dell'Italia che però riconosce le autonomie molto importante ora l'Italia è una repubblica abbiamo detto repubblica quindi res pubblica l'insieme fondata sul lavoro qui interveniva ha intervenuto spesso Meuccio Ruini importantissima anche la sua figura oltre che come presidente come studioso era un uomo molto diciamo in laco gli anni no è uno dei vecchi grandi vecchi della costituzione della costituente era nato appunto nell'ottocento ma affermava che a differenza dell'ottocento in cui l'idea animatrice il mito era la libertà nel presente il lavoro e la fase che si chiamò più o meno esattamente capitalismo secondo Ruini dice è al suo tramonto attenzione non sono degli eversori dei comuni Ruini non è un comunista uno che pensa anticapitalista assolutamente però era lui fondò la democrazia del lavoro che ebbe però una vita effimera diciamo una storia effimera come partito ma si rifaceva a un laborismo di tipo inglese anglosassone ma avevano ben chiaro che quel capitalismo no capitalismo otto e primo novecentesco era il tramonto quello che stava per nascere era un'economia del lavoro questo è molto importante nella Costituzione ritroviamo appunto l'utilità sociale i fini sociali la cooperazione articoli sulla cooperazione era una nuova concezione del lavoro ecco del lavoro come lavoro comunitario come lavoro democratico cioè la democrazia nei luoghi di lavoro allora diceva le libertà giuridiche di proprietà di inviolabilità della persona di domicilio questi sono i diritti classici si dovranno aggiungere i diritti individuali e collettivi di natura economica ora se sono diritti collettivi implicano una necessaria azione dello Stato verso inevitabili compiti di regolazione e di guida e su questo anche qualche dibattito e diciamo polemica era nata era sorta durante l'assemblea costituente tra chi ad esempio ne dico una sola non voleva sentir parlare di piano 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 vuol dire programma programmazione perché veniva in mente il piano quinquennale sovietico no? attuato appunto da Stalin i diversi piani quinquennali però poi lui mi spiegava chiamiamolo programma infatti poi entrerà come programma ma non è che cambia la cosa cioè lo Stato deve ha il compito anche di dirigere lasciandosi libertà ai privati ma deve comunque dirigere deve gestire era una nuova concezione ora la libertà quando parliamo di libertà dobbiamo intenderci io non so sono andato a rivedermi ecco il discorso sullo Stato dell'Unione di Roosevelt e questo è Roosevelt presidente poi c'è la Roosevelt la moglie Eleanor ma Roosevelt nel 41 siamo in piena guerra mondiale gli Stati Uniti non sono ancora entrati in guerra siamo all'inizio il 6 gennaio però fece un discorso che rimane insomma una pietra migliare no? quello in cui prefigura alcuni temi della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo cioè parla di quattro grandi libertà la libertà di parole di espressione la seconda la libertà di ogni persona di rivolgersi a Dio a suo modo quindi la libertà religiosa e questa guardate che è molto importante anche noi abbiamo ovviamente gli articoli il 6 e anche il 7 insomma sulla libertà ovviamente religiosa lo sappiamo oggi quanto è importante oggi in periodi storici questo periodo storico in cui invece sono poi tornate no? guerre non dico di religione ma insomma sono a base di fedi diverse la terza la libertà dal bisogno la libertà dal bisogno vedete se parliamo di libertà dal bisogno e la nazione in questo caso la repubblica lo stato dovrà intervenire è impensabile no? perché non partiamo tutti dalle stesse basi dalle stessi punti di partenza non sono tutti medesimi punti di partenza rimangono le famiglie ricche le famiglie medie le famiglie povere quindi in ogni stato allora libertà dal bisogno sapeva bene Roosevelt che la libertà era insieme era collegata alla libertà dalla paura la libertà dalla paura allora era libertà anche che Roosevelt addirittura si porta avanti dice prevedere una riduzione mondiale degli armamenti questo sappiamo che non sarà così anzi che la stessa i Stati Uniti ma dopo la morte di Roosevelt nel 45 e con Truman addirittura gli armamenti non solo non li smantellano ma li utilizzano e li utilizzeranno una bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki ora su questo discorso della libertà volevo farvi sentire proprio una breve sequenza da un film che probabilmente non avete mai visto ma non lo so magari qualcuno sì Easy Rider finché andava molto ai miei tempi e su proprio sono poche parole ma secondo me significative grazie a tutti lo sai una volta questo era proprio un gran bel paese e non riesco a capire quello che gli è successo è che tutti hanno paura ecco cosa è successo noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghietti da due soldi voglio dire proprio di quelli da due soldi capisci credo che si vada a scannarli o qualcosa hanno paura sì ma non hanno paura di voi hanno paura di quello che voi rappresentate ma quando per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli quello che voi rappresentate per loro è la libertà che c'è di male nella libertà la libertà è tutto ah sì è vero la libertà è tutto d'accordo ma parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse voglio dire che è difficile essere liberi quando ti comprano ti vendono al mercato e vada a non dire mai a nessuno che non è libero perché allora quello si darà un grande affare a uccidere a massacrare per dimostrarti che lo è ah certo ti parlano e ti parlano e ti riparlano di questa famosa libertà individuale ma quando vedono un individuo veramente libero allora hanno paura la produrre però non li fa scappare no ma li rende pericolosi avrei una domanda perché secondo la sua opinione le riforme hanno un fascino incredibile per le forze politiche ogni maggioranza praticamente il problema è proprio questo il problema è che ci sono state diverse riforme costituzionali ed era previsto dagli stessi costituenti era una costituzione la nostra sì rigida ma rigida nel senso che per modificarla ci vuole una maggioranza cosiddetta qualificata non solo una maggioranza 51% ecco maggioranza del 75% ma e poi attraverso due diversi passaggi a distanza di sei mesi quindi rigida nel senso che non si può cambiare facilmente ci deve essere una convergenza di buona parte del Parlamento e questo è normale perché i nostri costituenti avevano ben presente quello che aveva fatto il fascismo dello statuto albertino che era una costituzione cosiddetta flessibile e erano riusciti a stravolgerla completamente con le leggi fascistissime cioè senza cancellare lo statuto ne avevano di fatto svuotato completamente tutto il quell'appunto quell'insieme di diritti che lo statuto contemplava i diritti civili in nome di uno stato no? in nome dello stato quindi fascista e questo non doveva più accadere i nostri costituenti sapevano che ci sarebbero state maggioranze diverse nel futuro maggioranze anche conservatrici anche reazionari ma bisognava impedire a chiunque a qualunque maggioranza di appunto stravolgere la costituzione a proprio piacimento ecco e io vi ho fatto l'esempio dell'utilità sociale ecco questo esempio non è passato ma quindi occorre occorre per per riformare la costituzione appunto una una forte convergenza poi gli articoli che sono stati nel tempo modificati sono prevalentemente quelli della seconda parte anche se bisogna sempre spiegare appunto che non sono compartimenti stagno la prima e la seconda parte sono in diretta relazione ecco quindi però ecco diciamo che la seconda parte l'ordinamento dello Stato repubblicano ha visto diversi diversi cambiamenti quindi niente di l'importante sono questi questi i diritti fondamentali e soprattutto il problema è non solo l'osservanza e la e la realizzazione di questi diritti in questo senso è una costituzione sempre rivolta al futuro nel senso che non siamo ancora riusciti ad attuarli ne abbiamo attuati alcuni grazie a delle leggi ma ci sono voluti decenni ci sono voluti decenni pensiamo solo al ruolo della donna nella magistratura bisognerà arrivare al 1963 finalmente l'accesso alle donne delle donne alle più alte cariche della magistratura era stata una battaglia in assemblea costituente portata avanti dalle donne le donne erano 21 lo ricordo su 556 ma importantissime una levatura immensa dalla Federici alla Iotti Lina Merlin quindi sono te e grazie a loro che sono passati articoli quindi la costituzione va riformata va adeguata lo diceva anche Ruini andrà adeguata al costume al cambiamenti ai cambiamenti sociali lo sapevano bene nel 47 che ci sarebbero stati i cambiamenti sociali sono arrivati c'è stato il boom economico sono stati gli anni 60 e quindi la costituzione si è dovuta adeguare è stata adeguata alle nuove sensibilità però rimangono questi capisaldo questi principi ecco adesso torniamo a vederli torniamo adesso ai diritti fondamentali e quindi alla aspetta se no parte il video è allora siamo a libertà diritti fondamentali allora l'articolo 2 e l'articolo 3 sono importantissimi ma poi questi due articoli che bisogna conoscere a memoria come l'articolo 1 i primi 3 anche il quarto sul diritto al lavoro li darei come proprio da conoscere a memoria ora la repubblica riconosce garantisce i diritti inviolabili dell'uomo attenzione non del cittadino dell'uomo e infatti in coerentemente con questo principio costituzionale sono poi passate delle leggi o sono state abrogate delle leggi che non riconoscevano per esempio agli stranieri agli extracomunitari gli stessi diritti inviolabili magari dicendo no nelle pieghe delle leggi non sono cittadini italiani no l'articolo 2 parla di diritti inviolabili dell'uomo non del cittadino italiano dell'uomo ma questi diritti inviolabili dell'uomo li riconosce la nostra repubblica e li garantisce come singolo e va bene ed è giusto ma sia però nelle formazioni sociali qui si apre tutta questa il pluralismo la scostituzione plurale e solidale perché quali sono le formazioni sociali dalla famiglia la scuola l'ambiente di lavoro l'azienda e i partiti i sindacati le associazioni il volontariato voi pensate quanti sono gli ambiti in cui noi ciascuno di noi svolge il suo impegno le formazioni sociali in cui ognuno di noi svolge il suo impegno svolge la sua personalità quindi questo deve una repubblica democratica avanzata e quindi non c'entra più nulla con quelle ottocentesche lo capite bene questa costituzione per queste riconosce non più l'individuo nella sua sfera individuale e individualistica ma lo riconosce nella sua no formazione sociale come come personalità che svolge una no un ruolo e all'interno di formazioni sociali ma anche proprio per questo la repubblica se lo riconosce garantisce questi diritti deve anche richiedere l'adempimento dei doveri indelogabili di solidarietà politica economica e sociali quindi la repubblica ci riconosce questi diritti in quanto uomini dentro le formazioni sociali ma ci richiede anche l'adempimento di doveri ecco qui e qui è proprio l'eco mazziniano eh dei diritti e i doveri i diritti inviolabili riconosciuti vuol dire riconoscere attenzione ai singoli verbi alle singole parole vi ho detto riconoscere perché sono preesistenti allo Stato eh non è lo Stato che che permette no il diritto ma il diritto è preesistente allo Stato dell'uomo e non del semplice cittadino come vi ho detto a tale a tale proposito non posso non citarvi eh un altro dei degli uomini importanti della nostra Costituzione che è Giorgio Lapira che poi sarà anche sindaco a Firenze ora Lapira democristiano è a lui che si deve no anche questo il fatto appunto di inserire la persona umana persona umana è effettivamente un concetto che è riconducibile anche al pensiero cristiano eh è cattolico e però cosa diceva Lapira Lapira diceva il primato storico e logico della persona umana rispetto allo Stato poi parlava di eh come dire anche cerchi concentrici no l'uomo le prime formazioni quali sono la famiglia e poi cosa c'è poi ci sono appunto luoghi di lavoro poi c'è il comune poi c'è la e quindi bisogna ehm riconoscere no che l'uomo c'è l'uomo è prima dello Stato no è una premessa decisiva questa anteriorità rispetto allo Stato della persona umana l'uomo ha valore di fine e non di mezzo ha valore di fine e non di mezzo ora per darvi un'idea della quanto era importante per loro no per i nostri costituenti che uscivano vi ripeto ancora una volta da vent'anni di fascismo e da una guerra civile devastante dal 43 45 pensiamo solo a quello che invece affermava Mussolini agli inizi agli inizi della di quella terribile ventennio eravamo solo agli inizi e a me interessa insomma mi sembra interessante anche ogni tanto richiamare capire da dove questa cesura quanto dove essere forte la costituzione e quanto dovesse essere antifascista altro che afascista ora Mussolini sono andato a rivedermi alcune affermazioni proprio nel ventidue tra il ventuno e il ventidue c'è un cambiamento forte nasce il partito nazionale fascista da movimento diventa partito dai dalla marcia su Roma che era molto anche socialisteggiante richieste della repubblica diritti alle donne in pochi mesi il partito fascista diventa il movimento diventa partito si lega agli agrari come voi sapete lo state studiando si lega ai poteri forti dell'industria e degli agrari e diventa invece appunto un partito ovviamente manifesta tutta la sua autoritarismo e diventa appunto partito di ordine legge e ordine no? e scrive su gerarchia gerarchia è una rivista molto interessante se volete capire un po' è la rivista ufficiale del regime fondata proprio da Mussolini nel 22 quindi andate a leggervi qualche articolo capite l'impianto fascista qual era comunque in questo articolo da che parte va il mondo no? il 25 febbraio del 22 e lui diceva i popoli muovono ansiosi alla ricerca di istituzioni di idee di uomini che rappresentino dei punti fermi nella vita che siano dei porti sicuri vedete la sicurezza no? il voler dare sicurezza al popolo il secolo della democrazia muore nel 1920 secondo Mussolini è morto il processo di restaurazione a destra è già visibile l'orgia dell'indisciplina è cessata gli entusiasmi per i miti sociali e democratici sono finiti la vita torna all'individuo una ripresa classica è in atto ecco l'individuo qui certo non si parla di formazioni sociali anche perché poi si parlerà di popolo di stirpe italiana tutto sarà però ricondotto all'uomo forte cioè a Mussolini stesso che rappresenterà l'unione come dire il centro la garanzia garantirà lui no? capite che c'è un impianto quindi anche atomistico se vogliamo il popolo in senso atomistico qui invece nella nostra costituzione democratica e sociale sappiamo invece l'uomo è proprio la sua libertà la la trova la vive la realizza nelle formazioni sociali io poi ho qui ho aggiunto l'uomo non è un'isola non vive da solo sapete già da Aristotele in avanti Aristotele diceva son politicon e l'uomo vive nelle relazioni e quindi nei gruppi vive da sempre non è che è una novità però dobbiamo appunto si scontrano proprio due ideologie in questo caso è quella più individualistica e qui parlava qualcuno mi chiedeva la libertà oggi voi lo vedete oggi vanno in piazza senza mascherina e ti dicono io voglio la libertà che tipo di libertà è quella sapendo che a pochi passi di distanza da quella piazza ci sono ospedali dove stanno morendo a ritmo di 400 persone al giorno anche dovute a queste manifestazioni no in cui sappiamo il contagio viene per via aerea è una è chiaramente una come dire una manifestazione di libertà possiamo dire egoistica individualistica esisto io la mia libertà voglio la mia libertà ma non c'entra molto col senso di libertà sancita dai nostri padri e madri costituenti allora in questo senso vi voglio far sentire una vecchia canzone non so se qualcuno di voi conosce Gaber Giorgio Gaber è la libertà ecco adesso ascoltatela perché può essere anche questa interessante vorrei essere libero libero come un uomo vorrei essere libero come un uomo come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura sempre libero e vitale fa l'amore come fosse un animale increscente come un uomo compiaciuto della propria libertà la libertà non è star sopra un albero non è neanche il volo di un mossone la libertà non è uno spazio libero libertà è partecipazione vorrei essere libero libero come un uomo come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia è il diritto di votare che passa la sua vita delle gare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà la libertà non è stare sopra un albero dove neanche avere un'opinione la libertà non è uno spazio libero libertà è partecipazione non è anche il volo di un mossone la libertà non è uno spazio libero libertà è partecipazione farei essere libero libero come un uomo come l'uomo più evoluto che si innalta con la propria intelligenza e che sfida la natura con la porta incontrastata della scienza con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo è convinto che la porta del pensiero sia la sua libertà la libertà la libertà non è stare sopra un albero non è neanche un gesto un'invenzione la libertà non è uno spazio libero libertà è partecipazione ecco andiamo ad andare un po' più veloce allora questa canzone di Gabber ci dice molto due modi di intendere la libertà ci può essere il momento in cui uno ha bisogno della propria libertà interiore che se ne va in montagna e vive che ne so qualche tempo da solo però normalmente ecco la libertà intesa come partecipazione mi sembra che vediamolo in concreto tutti i grandi diritti che sono stati raggiunti tra gli anni sessanta e settanta sono stati raggiunti grazie a questa partecipazione che era veramente incredibilmente estesa come dire a una popolazione italiana e non solo pensate al maggio francese però in Italia è andata avanti molto di più ecco che negli altri paesi lungo sessantotto si parla di lungo sessantotto cioè ma io faccio degli esempi decreti delegati nelle scuole no cioè il fatto che voi studenti abbiate i vostri rappresentanti e i vostri genitori siano dentro i consigli di istituto è stata una grande conquista nel settantaquattro ma ce n'è voluta voglio dire è stata una cosa richiesta dai genitori si facevano per le mense per il tempo scuola il tempo prolungato non era semplicemente un tempo prolungato era un tempo scuola pomeridiano per le famiglie meno abbienti le scuole aperte al territorio e si facevano giorni e notte fuori dalle scuole no per le petizioni c'era una mobilitazione diritto quindi all'istruzione il diritto alla sanità contro la psichiatria tradizionale pensate al movimento antipsichiatrico dell'antipsichiatria ora sono tutti il movimento appunto che porterà il diritto di famiglia finalmente pieno anche perché c'è l'articolo 30 pieno riconoscimento il 29 il 30 pieno riconoscimento a entrambi i coniugi quindi anche alla moglie e cioè solo nel 75 arriverà la modifica del decreto del diritto di famiglia ma grazie a queste lotte il divorzio l'aborto veramente c'era la forte partecipazione ci si incontravano assemblee assemblee all'interno delle aziende delle grandi fabbriche assemblee nelle scuole i ragazzi che scendevano in piazza ora io vi richiamo velocemente non so un uomo come Norberto uno studioso importante come Norberto Bobbio che era molto chiaro quando Norberto Bobbio spiegava le differenze tra le diverse libertà nella storia lui in uno dei suoi saggi più significativi politica e cultura scrive libero non è colui che ha un diritto astratto senza il potere di esercitarlo bensì colui che oltre al diritto ha anche il potere di esercitarlo cioè i diritti civili di libertà sanciti nelle carte ottocentesche erano diritti nella carta poi però come facevi come faceva il più povero il più diseredato a esercitare quel diritto che era sulla carta appunto quindi erano due tipi di libertà libertà negativa la libertà negativa nel dibattito politologico del pensiero politico si intende quella situazione in cui il soggetto ha la possibilità di agire senza essere impedito libertà da o anche di non agire senza essere costretto quindi libertà da e sono le libertà proprio quelle classiche che con la Costituzione americana francese la rivoluzione hanno ottenuto gli uomini rispetto ovviamente al potere sovrano nel senso del sovrano delle grandi monarchie assolutistiche quelle sono importantissime libertà ma sono libertà negative libertà da però poi intervengono le libertà di le libertà positive libertà di però è quando appunto un soggetto ha la possibilità di orientare il proprio volere verso uno scopo cioè prendere delle decisioni e questo lo si fa insieme cioè se vogliamo le libertà negativa è una libertà più individuale io sono libero perché nessuno mi costringe a fare una cosa ma nel momento in cui la libertà diventa positiva è quella che chiamiamo autodeterminazione no? autonomia lo si fa insieme no? negativa e quindi ora per farvi un altro esempio no? Don Milani Don Milani negli anni sessanta diceva bisogna avere le idee chiare infatti di il fatto di problemi sociali e politici no? diceva e e diceva non c'è nulla che sia ingiusto quanto fare parti uguali fra diseguali su questo si aprirebbe una cosa un dibattito adesso che non abbiamo tempo ma sarebbe molto interessante il discorso è non si possono fare no? parti uguali fra diseguali cioè si parte sempre da punti di partenza sono diversi quindi bisogna intervenire questo è lo stato interventista lo stato che no? deve garantire fattivamente che anche le parti più disagiate della popolazione possano quindi godere di quella libertà se no uno ci può avere la libertà di morire di fame beh insomma no? per dire per assurdo allora io penso qui ho fatto un esempio della libertà sindacale la libertà sindacale è stata negata dal fascismo il fascismo ha negato libertà sindacale e aveva subito tra le sue prime leggi fascistissime impedito lo sciopero che è la prima forma forse più importante che hanno i lavoratori ora perché tutto era centrato nello stato la repubblica no? e abbiamo detto il gruppo maggiore a cui un cittadino appartiene inteso come comunità di persone quindi la repubblica è qualcosa che quindi comprende tutti noi tutti noi e e obbliga di l'aiuto no? di aiutare chi è più in difficoltà così l'avevano inteso i nostri costituenti così l'ha inteso un grande uomo di allora un grande giurista che è Calamandrei quando grida no? agli altri ai suoi fa una una famosa lezione del 55 alla società umanitaria interviene di fronte proprio ai ragazzi dei licei eh licei università c'è questa grande sala del salone degli affreschi all'umanitaria piena di studenti milanesi e lui fa un discorso che è tutto su youtube lo dovete assolutamente quello se non l'avete mai sentito ascoltatelo bene e io faccio sentire un breve l'inizio di questo discorso di Calamandrei proprio sulla concetto di partecipazione no? comunitaria come dire siamo una repubblica siamo tutti sulla stessa barca adesso non vi anticipo nulla però la costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé la costituzione è un pezzo di carta la lascio cadere perché non si muove perché si muove bisogna ogni giorno di metterci dentro il combustibile bisogna metterci dentro l'impegno lo spirito la volontà di mantenere queste promesse la propria responsabilità per questo una delle offese che si fanno alla costituzione è l'indifferenza alla politica un po' una malattia dei giorni indifferenzia la politica è una brutta cosa che me ne importa la politica e io quando sento fare questo discorso mi viene sempre in mente quella vecchia storiendina che qualcuno di voi conoscerà di quei due emigranti due contadini che attraversavano l'oceano su un piroscopo trapallante uno di questi contadini dormiva nella stila e l'altro stava sul ponte e si accorgeva che c'era una gran burrasca con delle onde altissime il piroscopo uscita e allora questo contadino impaurito domanda al marinaio ma diciamo un pericolo e questo dice se continua questo mare tra mezz'ora il battimento a fondo allora lui vuole nella stila a svegliare il compagno dice beh se continua questo mare tra mezz'ora il battimento a fondo quello dice che me ne porta la mia mia ecco questo è solo l'inizio di questo importantissimo discorso che poi continua analizzando l'articolo 3 per l'appunto la Repubblica promuove adesso ci arriviamo e e questo perché siamo tutti è vero sulla stessa barca ma non ci rendiamo conto è chiaro che chi sta meglio tende non è non è un discorso assolutistico ma tenderebbe anche a farsi come dire a fare i suoi e a intendere la libertà più in senso negativo che positivo no chi adesso ha già che ne so lo yacht pronto potrà magari andare fuori no da giugno luglio secondo le nuove libertà diciamo acquisite in fase pandemica lo yacht è già pronto se ne starà in giro certo non è che allora un po' diverso non è un discorso classista ma ci sono come dire esigenze diverse ma la Repubblica questo deve fare deve tenere insieme lo sa bene lo sapevano bene persone quindi più forti più potenti più hanno più potere culturale dovete pensare nel 46-47 la maggioranza di italiani era semi analfabeta solo una piccolissima minoranza aveva la laurea quindi o comunque aveva accesso ai licei parliamo appunto di punti di partenza estremamente non parliamo del nord del sud del sud Italia erano situazioni veramente di arretratezza sociale spaventosa quindi allora quale libertà vedete questo era appunto quello di Bobbio quindi lo ritrovate qui in questa una sintesi di quello che vi dicevo di Bobbio in questa slides la libertà non possiamo che associarla alla responsabilità se vogliamo proprio entrare cioè la libertà intesa come responsabilità come diceva anche Eleanor Roosevelt vedete qua Eleanor Roosevelt con i diritti umani la carta la nuova dichiarazione universale dei diritti umani la libertà richiede moltissimo ogni essere umano con la libertà viene la responsabilità per la persona che non vuole crescere la persona che non vuole portare il suo peso questa è una prospettiva terrificante cioè è questo che è la libertà intesa anche nella dichiarazione di diritti umani non può prescindere dalla solidarietà dal prendersi cura anche degli altri e allora arriviamo al nostro articolo 3 il nostro articolo 3 io qui ho messo vedete tutti i cittadini hanno pare dignità sociale sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso e in questo poi lo ritroviamo nell'articolo 29,2 il problema di genere oppure lo ritroviamo nel 48,1 nel 51,1 nel 117,7 il fatto che non ci debba essere distinzione di sesso quindi tra uomini e donne e così di razza di lingua di religione di opinioni politiche la seconda il secondo comma importantissimo e su cui infatti lo stesso Calamandrei in quel famoso discorso poi si soffermerà e compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale perché li deve rimuovere perché è compito di tutti noi dello Stato dell'ordinamento statale delle leggi ma anche di tutti noi perché questi limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini non c'è niente da fare pensate c'è un grande intellettuale un letterato Anatole France se lo trovo qui aveva scritto Il Giglio Rosso Le Lille Rouge e in questo libro aveva sottolineato ora è come se le leggi sono uguali per tutti ma è come se proibire al ricco e al povero di rubare del pane e al possidente e al nullatenente di pernottare sotto i ponti della Senna cioè le leggi dicono che è proibito rubare il pane ed è proibito pernottare sotto i ponti della Senna e ho capito questo ovviamente al ricco il ricco tranquillamente questi diritti queste leggi le rispetta e il povero che può essere nelle estreme conseguenze costretto a rubare il pane o lo è costretto a dormire sotto i ponti perché non ha la casa e chiaramente trasgredisce come dire viola delle norme delle leggi che non se sono uguali per tutti però non tengono conto di delle condizioni questo era un esempio e quindi questo che abbiamo anche detto appunto di Don Milani non c'è nulla che sia ingiusto quanto far parte uguali fra diseguali quindi è la differenza tra legge e giustizia ok e tutti i cittadini hanno pari dignità sociale allora in questo articolo che dice dei cittadini avete visto che nel secondo si parla anche di uomini no in questo caso si parla di cittadini allora era stato era stato sollevato ma come sono solo i cittadini e gli stranieri ecco in questo senso c'è una sentenza della Corte Costituzionale del 2005 la 432 che è a correzione di una legge ritenuta incostituzionale quindi abrogata perché prevedeva questa legge prevedeva un abbonamento gratuito ai trasporti pubblici per gli invalidi ma solo se italiani la Corte Costituzionale con questa sentenza invece non distingue e dice distinguere tra cittadini italiani e cittadini stranieri comunitari o extracomunitari o apolidi finisce per introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione del tutto arbitrativi non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra quella condizione positiva di ammissibilità al beneficio che è la cittadinanza e gli altri peculari requisiti che è l'invalidità al 100% ora quindi se c'è lo straniero l'extracomunitario che è invalido al 100% ha gli stessi diritti dell'italiano è dovuto intervenire grazie all'articolo no? grazie appunto ai principi sanciti nella Costituzione attenzione ma sapete quante leggi anche i comuni le regioni fanno che sono incostituzionali poi deve intervenire appunto la Corte Costituzionale per abrogarli e perché la Costituzione italiana vieta ogni discriminazione sulla base del sesso della lingua dell'etnia della religione quindi va oltre la pura definizione dell'eguaglianza formale prevede la fondamentale azione della Repubblica nel promuovere l'eguaglianza sostanziale che è un processo infinito potremmo dire nel senso che non abbiamo certo raggiunto continuano a esserci le differenze continuano però grazie a questi articoli a come sono stati scritti ecco è possibile la Corte Costituzionale guardate che la Corte Costituzionale era considerata fu considerata adesso ve lo dico una bizzarria dallo stesso Togliatti non era ben vista né da Togliatti né dai liberali perché come dire è la legge poi importante no invece a distanza poi di anni si è capito quanto è stata importante la Corte Costituzionale entrerà nel vivo diciamo delle sue sentenze dal 57 al solito ci vorranno un po' di anni però quanto è fondamentale ancora oggi ecco e lo sarà anche in futuro avere una una Corte a garanzia di questi diritti eh però per gli uomini diciamo più vecchi per uomini legati ad altre diciamo ideologie certe ideologie era vista un po' appunto come no una come appunto una Corte che avesse troppi poteri no che potesse in realtà è a garanzia della costituzionalità di ogni legge ora per vedere poi la Costituzione plurale solidale non possiamo non andare abbiamo poco tempo ma almeno la scuola è la scuola aperta a tutti no l'articolo quindi importantissimo siamo nella l'articolo della scuola sono il trentaquattro e poi il trentaquattro l'articolo trentaquattro la scuola aperta a tutti l'istruzione inferiore impartita per almeno otto anni obbligatoria è gratuita i capaci e meritevoli anche se primi di mezzo hanno diritto di raggiungere gradi più alti degli studi vedete se no rimane una costituzione voglio dire di principio no leggi di principio che non hanno invece per essere attive per essere attive nella no nell'elevazione anche dei cittadini nel dare tutti la possibilità di accedere ai gradi più alti bisogna che i capaci e meritevoli abbiano che cosa le borse di studio assegna alle famiglie varie provvidenze no e ancora ancora su questo non posso non citare Don Milani che avete capito che insomma è un autore che su cui anche ho studiato mi è sempre affascinato no la sua capacità poi proprio di andare dentro gli aspetti concreti Don Milani affermava che se perdiamo loro no gli ultimi la scuola non è più scuola è un ospedale che cura i sani e le spinge malati questo lo diceva Don Milani in un periodo in cui ancora la scuola era una scuola di elite le grandi diciamo trasformazioni avverranno fine anni 60 e anni 70 no una scuola finalmente che si aprirà e anche Piero Calamandrei addirittura nel 50 afferma la scuola come la vedo io è un organo costituzionale la scuola è l'organo centrale della democrazia perché serve a risolvere quello che secondo noi è il problema centrale della democrazia la formazione della classe dirigente e ogni tanto noi sentiamo dire i professori delle scuole i maestri i professori dovrebbero essere pagati meglio una vergogna hanno in mano la nostra futura i nostri ragazzi la futura i futuri classe dirigente o futuri politici o futuri lavoratori futuri le sentiamo sono un po' così ipocriti molto ipocriti perché poi la scuola non ha mai questa centralità ma per Piero Calamandrei invece era importante addirittura un organo costituzionale e la scuola di stato la scuola democratica è una scuola che ha un carattere unitario la scuola di tutti che crea cittadini non crea cattolici protestanti marxisti e poi in questo discorso molto importante Calamandrei prosegue polemicamente verso le scuole private vabbè comunque adesso non c'è tempo ma la scuola è importantissima al punto che io qui devo fare almeno qualche richiamo alla nostra dove è nata la nostra costituzione è nata come diceva come dirà poi Calamandrei diranno altri è nata in montagna nelle montagne dove combatterono i partigiani e bene durante la lotta partigiana ci furono le repubbliche partigiane la Valdossola Montefiorino la Carnia ora queste repubbliche alcune di queste alcune di queste repubbliche che ebbero vita effimera vero al massimo un mese 40 giorni quella della Valdossola 40 giorni ebbene lì proprio in Valdossola fu un tempo sufficiente addirittura a organizzare come dire a scrivere una riforma della scuola cioè voi dovete pensare i partigiani conquistano a prezzo i sacrifici immensi di migliaia di vittime contro i nazisti e i fascisti riconquistano come dire conquistano un territorio sanno che quel territorio ce l'avranno per poche settimane perché torneranno ovviamente con i blindati i nazisti e i fascisti però in quelle settimane comunque mettono mano alla carta futura pensano alla scuola che verrà e pensano già a una scuola media unica incredibile sapete quando verrà realizzata la scuola media unica molti anni dopo addirittura nel 62 quindi c'era Gisella Floreanini la grande combattente all'interno di quella repubblica ma questo perché appunto all'interno della lotta di liberazione si comincia si elaborano le linee del nuovo Stato che sarà il nuovo Stato repubblicano la nuova Italia repubblicana non la immaginano solamente ne discutono e quindi ci saranno non so il patto della montagna nel Biellese addirittura nel Biellese che è la zona di industrie testili importantissime raggiungeranno un accordo padroni e lavoratori prima del 25 aprile è incredibile quindi erano già proiettati al dopo un accordo un patto che vedesse il pieno riconoscimento del lavoro maschile femminile uguale retribuzioni cose che poi ancora oggi parliamo delle pari retribuzioni abbiamo ancora il problema che le donne nel privato guadagnano meno a parità di mansioni capite che andrebbe ristudiata andrebbe sempre studiata in maniera più approfondita anche la lotta di liberazione quei 18 mesi perché è lì che ci sono i germi i primi semi e quindi la costituzione ribadiamo non solo antifascista ma nasce proprio sulle montagne lì dove combattevano i partigiani quindi la scuola aperta a tutti sapete che nella prima bozza c'è il concetto marchesi che parla voglio dire all'interno della commissione che si occupa degli articoli sulla scuola personalità di livello come concetto marchesi comunista ma grande latinista allora la prima bozza diceva la scuola aperta al popolo poi viene modificata perché potete immaginare ogni parola aveva un suo peso e aveva un peso o classista o interclassista popolo in quel caso no la scuola aperta al popolo spaventava un po' troppo i democristiani e soprattutto i conservatori liberali si disse no il popolo in questo caso il popolo ha un'accezione diversa rispetto a popolo dei primi articoli no di quando appunto si parlava appunto della sovranità appartiene al popolo quello è il popolo tutto qui la scuola aperta al popolo voi la intendete no veniva detto in assemblea così no voi la intendete come il popolo il proletariato e quindi i lavoratori e quindi appunto il popolo diciamo di sinistra quello che si riconosceva per il partito comunista e socialista e quindi alla fine insomma la scuola aperta a tutti no è prevalso a tutti che troviamo adesso nell'articolo però la cosa importante è che la scuola è aperta a tutti ecco deve essere così all'inizio era sette anni poi diventa otto e poi la repubblica detta le norme garantiscono i più meritevoli l'esercizio di tale diritto ora fate attenzione perché in tanti articoli c'è questo termine l'esercizio di cioè favorire l'esercizio di cioè non solo la norma in astratto ma la possibilità dell'esercizio di quella norma attenzione questo è fondamentale nei vari articoli no troviamo perché se no non volevano no avevano questo timore i nostri costituenti non bisogna fare una costituzione di grandi principi che poi rimangono sulla carta ma dobbiamo fare in modo che questa costituzione venga attuata quindi l'effettivo esercizio l'effettivo esercizio ad esempio pieno sviluppo ecco l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori dell'organizzazione politica economica e sociale del paese sempre l'articolo 3 secondo comma l'effettiva partecipazione lo ritroviamo più volte questo effettivo no di fatto anche di fatto eh quell'aggiunta di fatto no eh importante non capite non è ehm è un non è un di più inutile ecco è proprio deve rendere no concreto il il principio deve trasferirsi norme concrete ecco e quindi il diritto all'istruzione vedete c'è una sentenza 215 1987 la corte costituzionale stabilisce l'incostituzionalità di leggi che comportino l'esclusione dell'istruzione superiore degli handicappati eh si parlava ancora di handicappati in quanto incapaci allora siccome c'era stata una legge che impediva una persona handicappata di iscriversi in una data scuola eh si fa ricorso alla corte la corte con la sentenza 215 dice no non possiamo escludere handicappati in quanto incapaci in virtù dell'articolo 34 prima comma che recita la scuola aperta a tutti voi capite questo è l'effetto concreto delle norme dei principi costituzionali non solo viene richiamato l'articolo 34 ma viene richiamato anche l'articolo 2 dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità e tra le formazioni sociali abbiamo anche la comunità scolastica quindi quella legge viene abrogata e la persona potrà frequentare la scuola anche se con forti handicap e Simone scusa ci sono altre domande non ci sono altre domande però stiamo finendo il tempo stiamo finendo quindi vado veloce anche se l'ultima cosa allora era la salute anche altro piano questo interessa molto tutti noi in questo periodo non posso non questa scelta comunque doverosamente insomma sintetica dovevo ecco ho scelto anche la salute l'articolo 32 c'era anche una domanda no? su questo termine questo tema ora la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività allora prima cosa mai nelle Costituzioni precedenti si parlava di diritto alla salute no? è uno dei diritti invece diventa diritto fonda addirittura è l'unica diritto in cui i Costituenti scrivono fondamentale l'aggettivo fondamentale sembra strano perché voi all'inizio vedete i primi 12 articoli fondamentali ma se andate a vedere anche qui l'occorrenza no? quante volte occorre fondamentale lo troviamo solo in articolo 32 e perché il diritto è la base di tutto no? se vogliamo diritto fondamentale ma non è solo dell'individuo ma è della collettività e quindi oggi siamo di fronte appunto alle restrizioni di libertà di movimento sappiamo bene quanto ci pesi a tutti ma in nome di cosa? in nome di questo articolo 32 perché l'interesse è quello della collettività no? e l'altro comma importantissimo nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge perché bisogna non si possono violare i limiti della persona umana vedete che torna la persona umana lo stato italiano arriverà tardi a provvedere con una legge quella importantissima la 833 del 78 che istituirà il servizio sanitario nazionale con la quale si fornisce a tutti i cure gratuite prima c'era il sistema delle mutue eh adesso tutti i cure gratuite a costi ridotti poi però ci sarà insomma negli anni 90 no? in pieno neoliberismo si penserà bene no? di aprire invece ai privati di fare commissione pubblico privato e però con tutte le conseguenze insomma da una parte possono anche esserci conseguenze positive ma dall'altra anche molto negative fatto sta che poi insomma le cure agli indigenti sono un caposaldo della nostra Costituzione ce le invidiano in questo senso sono venuti a studiare i nostri sistemi sanitari negli anni 80 70 dagli anni 80 in avanti quindi il fatto che appunto diamo cure gratuite eh e su questo però non c'è tempo purtroppo perché c'era invece un simpatico come dire anche lì batti becco tra i vari costituenti in questo caso entrano in scena anche i medici non erano tanti ma c'erano un drappello di medici eletti in assemblea costituente che intervengono giustamente e fanno riferimento a quella che era la situazione di quel periodo con un numero enorme di tubercolotici di dementi di problemi sanitari in tutto il sud Italia e quindi dice rispetto a questo noi dobbiamo da qui ai prossimi decenni creare la possibilità dare la possibilità di curare tutte queste malattie questi morbi questi virus si parla è molto interessante io però su questo ho fatto una addirittura un intervento unico proprio solo sulla salute quindi non c'è qui il tempo ecco lo trovate però nel appunto in questo powerpoint e quindi ve lo potete poi guardare insomma sicuramente ecco quello che è importante capire è che anche su l'articolo 32 appunto pone sempre la collettività allora se abbiamo un'idea egoistica individualistica pensiamo alla nostra libertà usciamo senza mascherina e violiamo le leggi perché stanno violando sapete queste feste private il fatto di incontrarsi ma in nome di che cosa in nome della libertà ecco però è una libertà completamente dissociata dall'altro dal senso di responsabilità e tra l'altro viola l'articolo 32 che tutela la salute collettiva non siamo monadi su non siamo monadi viviamo dentro una collettività dentro le comunità e quindi nelle comunità se arriva un morbo un virus come questo del covid-19 che si propaga via aeree non c'è poco c'è poco da fare il distanziamento la mascherina e la pulizia delle mani sono fondamentali altrimenti infettiamo persone che più fragili più anziane muoiono e quindi è una scelta io non la consente non consento che sia una scelta individuale non è che posso dire sì allora tu pensi che sia più importante il diritto individuale alla libertà la tua personale e fai no io non lo considero né degno anzi indegno e né rispondente a quella che è la nostra costituzione poi ognuno di voi può pensarla come vuoi però ecco questo vi lascio un po' con ecco vi voglio lasciare con Colombo perché Colombo lo sconoscete tutti Gerardo Colombo interviene su questo proprio un minuto sul diritto alla salute e sapete lui è sempre abbastanza fregnante e poi ci lasciamo grazie comunque a tutti la costituzione partendo sempre dalla constatazione che tutti noi siamo degni tanto quanto gli altri tutela per tutti la salute senza fare nessuna discriminazione attenzione la costituzione tutela la nostra salute ma tutela comunque anche la nostra possibilità di io direi proprio decidere che la nostra vita sia una vita dignitosa e pertanto stabilisce che è vietato qualsiasi trattamento che possa contrastare con la dignità della persona siamo noi a decidere se una cura deve essere affrontata oppure no siamo noi a decidere se vogliamo quella cura oppure no salvo che ovviamente salvo che ovviamente decidendo per il no non danneggiamo le altre persone perché le altre persone sono degne tanto quanto noi ecco questo con queste parole vedete in pochissimo tempo in meno di un minuto ha riassunto il problema e qui si aprirebbe per esempio la questione perché non è stato reso obbligatorio il vaccino proprio in virtù di questo articolo anche si è pensato non lo rendiamo obbligatorio o meglio adesso lo hanno dovuto rendere obbligatorio per i medici e paramedici perché purtroppo una larga fetta troppi non si volevano almeno per quanto riguarda il personale che lavora con i più fragili per il resto della popolazione si continua a pensare che bisogna come dire ritenere le persone responsabili ecco poi ognuno si agisce secondo coscienza ma anche secondo conoscenza secondo me l'articolo 32 ci dice esattamente che cos'è la salute quanto è importante la salute personale e collettiva quindi adesso non c'è più tempo purtroppo vi saluto comunque vi ringrazio anche Grazie a tutti.